Arco sta vivendo una precarietà e sperimentazione viabilistica che dura da più di 700 giorni. Stiamo parlando del famoso rondò che sono costretti a percorrere ormai da quasi due anni gli utenti della strada che devono attraversare il centro di Arco per recarsi a fare commissioni nei negozi di via Marconi, via Garberie o via Galas, oppure diretti verso il casino o verso le residenze della fondazione di Arco, Sacra Famiglia o la casa di cura Eremo. La storia di questa decisione viabilistica è subito raccontata. Il 14 maggio 2013 il comune di Arco metteva in opera quanto stabilito dal piano urbano della mobilità, commissionato ad uno studio tecnico specializzato. Il traffico proveniente da sud è stato indirizzato in senso unico su via Roma per poi sbucare verso la fontana di Arco da dove si può svoltare verso via Marconi, oppure verso via Garberie, diventata a senso unico e dove all'inizio vennero posizionati anche alcuni parcheggi. Dopo qualche tempo è stato tolto il senso unico in via Capitelli, permettendo a chi proviene dal Romarzollo o dall'ospedale di dirigersi verso il centro di Arco, ma questa è un'altra storia, in quanto il percorso preferito dagli automobilisti, ai quali non piace fare giri a vuoto e dalle ambulanze che cercano la via più breve per arrivare sul luogo dell'emergenza, è dal passaggio tortuoso dietro il Casinò per sbucare in via Marconi. Immediata fu la sollevazione popolare da parte dei residenti delle attività commerciali ed alberghiere che da subito hanno visto calare il traffico davanti al proprio negozio. Furono organizzate due giornate di protesta con un corteo lumaca e con decine di pedoni che bloccarono il traffico e misero a dura prova i vigili urbani. Indomiti, i politici non diedero ascolto alla voce di protesta dei cittadini e alle migliaia di firme raccolte per ripristinare la viabilità precedente. Via Roma era stata da poco resa un boulevard che portava alla stazione, un viale prettamente pedonale e in armonia con le strutture circostanti, viali alberati e attraversamenti pedonali in porfido. Un viale che logicamente non ha saputo resistere al traffico continuo e pesante, che l'ha trasformata in una strada piena di buche e che ha obbligato il comune a molteplici e costosi interventi di rifacimento dell'asfalto e degli attraversamenti pedonali in porfido. Tutti gli automobilisti che si trovano a passare in quella direzione si rendono conto della tortuosità e dell'inutilità del percorso. Anche il comitato spontaneo per Via Roma è caduto nell'oblio, così come l'annunciato referendum è stato ritirato. Il comune ha nominato una commissione per il piano urbano della mobilità, ma tutto sembra tacere. Sentiamo alcune testimonianze raccolte in città. Cosa ne pensi del rondò di Via Roma? Penso che sia una cosa monca, penso che sia una cosa che non serve, penso che lo si possa vedere tranquillamente. Il traffico è lo stesso di prima, si è semplicemente deviato una parte di traffico. Credo che così com'è non serva nulla. Ne vediamo tutti i giorni delle belle, file interminabili di gente che evidentemente non è andata né all'AMSA né a parcheggiare dietro il casino, ma che arriva da Via Le Capitelli. Autoambulanze che fanno delle manovre impossibili per uscire e rimettersi nel traffico e per andare poi a aiutare qualcuno. Credo sia veramente sbagliato, però questo è quello che è stato scelto due anni fa, non è cambiato nulla, secondo me è tutto un po' da rivedere. Cosa ne pensi del rondò di Via Roma? Del rondò di Via Roma? Niente, da quando l'hanno fatto che si pensava che sia una cosa sperimentale, io ancora tuttora oggi non vedo nessuna logica, quindi che qualcuno mi dice cosa è cambiato in bene, perché io non vedo niente. Le dico, non lo so, 3-4 anni fa prima di cambiare qui alle 7-8 di sera c'era la gente che faceva giochi, che passava con gli animali, con i cagnolini. Ultimi due anni io non ho visto più nessuno passare quindi di fronte al mio albergo. Penso che Via Le Roma è stato costruito proprio o rifato per essere un boulevard, quindi qualcosa per una passeggiata, un'entrata diciamo alla città di Arco. Io non vedo nessuna delle cose in questo momento. La battaglia nei confronti delle scelte viabilistiche del PUM è partita con la raccolta di 4.500 firme contro il senso unico in Via della Cinta. Esprimo subito in merito al quale la più profonda perplessità rispetto a qualsiasi scelta che su Via della Cinta voglia modificarne la viabilità. Via della Cinta deve rimanere così com'è. Successivamente, una volta attuato il rondò di Via Garberie, Via Roma, Via Baden Powell e Via Santa Caterina a Tratto Nord sono state raccorte 2.000 firme e numerose manifestazioni di protesta contro questa scelta che dai cittadini è stata a dir poco osteggiata. In seguito sono state raccorte 1.500 firme per proporre un referendum per ripristinare la viabilità così com'era mantenendo Via della Cinta sempre a doppio senso di marcia e facendo rimanere Via Capitelli a doppio senso di marcia così come fortunatamente il PUM, almeno in questo ha fatto una scelta corretta, ha ripristinato il doppio senso di marcia su questa strada. Vediamo tutti dalle inquadrature che la telecamera riprende l'ignobile traffico che c'è dietro le nostre spalle, ossia delle autovetture che sono costrette a fare questo giro dietro il casino di Arco perché proprio non vogliono andare ad affrontare il rondò. Il comitato referendario ha deciso di ritirare il referendum in una disaffezione nei confronti delle urne che si è dimostrata per evitare che il referendum stesso diventasse un po' un buco nell'acqua pur nella sua validità. Attendevamo da parte della giunta delle scelte concrete in merito e queste oggettivamente chiederemo con ogni probabilità nei prossimi tempi attraverso una mozione. Si devono decidere che cosa fare. Cosa ne pensi del rondò di Via Roma? Non tutto il bene possibile. Dopo, tra l'altro, quello che ha detto Andrea Ravagni nell'intervento al quale ha avuto la fortuna di assistere, credo che dal punto di vista tecnico poche cose ci siano da aggiungere. È una viabilità a tre quarti, cioè si è fatto un esperimento e un esperimento deve durare un lecito numero di giorni e non 700 erotti come tu hai calcolato. Poco fa abbiamo assistito all'entrata dal retro del casino di un'ambulanza e questo non deve succedere. Chiaramente l'ambulanza non può fare una gincana e passare in senso vietato perché è passato anche in senso vietato perché non può o non vuole fare tutto il giro dell'oca di questo rondò. Tra l'altro c'è da dire una cosa che è il nodo secondo me centrale della questione per dire dell'incertezza di questa scelta. Allora, se Viale Roma dalla stazione verso la Fontana Luminosa diventa di fatto una via di grande traffico invece che è un viale periferico tranquillo dove non a caso sono sorti due alberghi, se è questo i dissuasori della velocità devono sparire o almeno i dissuasori fatti in quella maniera lì perché altrimenti ogni sei mesi siamo lì a spendere soldi per rifarli perché il traffico è pesante, passano i pullman e questi dissuasori fatti in quella maniera lì e sono fatti veramente in maniera singolare, uso questo termine per non prendere una querela, non è possibile che un'amministrazione comunale spenda dei soldi in sei mesi per rendere a posto dei dissuasori che non servono. Facciamo parte di un gruppo di commercianti che si affacciano su via Santa Caterina e con forza ribadiamo un concetto che abbiamo già espresso di fronte al sindaco, l'assessore competente che questo rondò ci ha portato a dei disagi notevoli, abbiamo fatto presente delle problematiche gravi del quale l'amministrazione non si è fatta ancora a carico, noi possiamo semplicemente rimanere fiduciosi comunque in ogni caso nei confronti di un'amministrazione che a detta sua al termine dell'anno scolastico potranno in qualche maniera intervenire su questo giro di veicoli in quanto il problema principale riguarda soprattutto al trasporto degli alunni quindi della tesina e dei servizi pubblici e dopodiché vedremo se potranno finalmente ripristinare il senso di circolazione che era due anni fa, un anno e mezzo fa circa e quindi ripristinare quello che era il nostro lavoro. I nostri clienti che comunque sono affezionati vengono e ritornano, non con la stessa frequenza di prima però ritornano e chiaramente non è che si lamentano, restano perplessi di quella che è una presa di posizione che sinceramente non sta in piedi ma è perfettamente inutile far passare un flusso di veicoli così pesante magari su una strada che è stata fatta, rifatta, è ancora stata danneggiata, sarà da rifare, via Roma chiaramente, davanti a due, gli unici due alberghi che noi abbiamo anche di lustro se possiamo permettersi di dire, cioè semplicemente non ha senso. Ci facciamo portavoce del malumore dei cittadini che ogni giorno si trovano a percorrere quel tratto di strada, iniziando da ora a contare i giorni che passano alla messa in opera delle rondò per sollecitare il comune a capire che la scelta viabilistica è stata scellerata. Noi chiediamo che il rondò venga tolto, che via Garberie torni a doppio senso di marcia e che venga posizionata una rotonda alla curva Marinoni e che via Roma torni a vivere.